ti interrogerò sui tool. Va bene. Vediamo se Marti riconosce le cose di cui parliamo sui social. Allora. Se ha studiato. Molto, molto rapidamente. Sì, vai, solo dalla voce dal primo là, tipo Sarabanda. Vai, bello vino con una, vai. Ho paura. Vabbè, questo è facilissimo. Che cosa fa GPT Excel? GPT Excel, tu gli scrivi come c'è GPT, gli chiedi voglio questo, tipo voglio fare la somma di una cella più l'altra, fammela, dimmi la formula e ti dà la formula. Perfetto, era facile. È quello che ha più visualizzazioni. Poi, questo invece è un po' piuttosto. Che cosa fa? Cosa vinco? Site. Uscite. Cosa faccia? Prossimo, vai. Andiamo avanti, va. Andiamo avanti. Cosa fa? Saymine.com Questo non me lo ricordo. Manco io, aspetta che vuoi? Ah sì, ok. Non ti ricordi? E fammelo sentire un attimo, vai. Il video pubblica è la puoi liberarti di tutte le mie spam. Ah vabbè, ok. Dovrei essere meno precisa. Sì, posso dirti un... Ah no, non lo so, un altro, sto pensando un'altra cosa, no. Vabbè, praticamente raga, ti cancella, saymine.com, tutte le iscrizioni alle robe spam. Perché ti capita di scrivere... Boh, io non do mai il consenso. A tutti i brand. Immaginavo. Tutte le newsletter. Potevo scommetterci. Sì, in effetti avresti potuto, ci avresti fatto dei soldi. Poi vado random, dai. Dai, vai random. Quelli vecchi, brutti. Vai, vai. Ma dovresti ricordarti a memoria tutti i turchi di cui hai parlato? È sempre esagerato. Ne facciamo un pochino. Pochi. Che schifo. Per te? Molto. Arrivo, eh. Hola, eh, qua ci sono le copertine. Oh, cos'è Toffi Share? Toffi Share è come WeTransfer. È per trasferire i file di grande dimensione. Ma facevi ricordartelo? Lo so. Non me lo sarei mai ricordato. Ho visto i video. Openlibrary.org? È il portale dove puoi scaricare i libri gratuitamente. Qua diventa una sera. E chatdoc.com? È il portale in cui tu inserisci il tuo documento e gli fai le domande. Questo è l'easy, si capisce anche già. Sì, è vero. Quante ne so? Cos'è Canva? Canva? Questa cosa mazza. Qual è il competitor di Canva? Che puoi fare le... Powerpoint. No, che puoi fare le presentazioni dicendo voglio una presentazione su. Ah, è vero. Come si chiama? Non mi ricordo assolutamente. No, non vale guardare. Vai. Vai. Lo so. Gamma App. Ah, vero, Gamma App. Esatto. Sai che io, se me lo facessi, non mi ricorderai nulla? Lo so. Ciao. 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 Grazie.